10. Ancora trasale. L'attentatore disse, signora, il suo sguardo mi tagliò come una falce e poi il gesto atroce. La realtà si oscurò e mentre i secondi passavano, l'acido scioglieva i miei occhi in una poltiglia sanguigna. 11. Caddi in ginocchio e poi battei a terra la fronte, come in uno specchio, rividi il giorno del mio matrimonio. Poi in ospedale ho gioito per ogni millimetro di oscurità che i medici strappavano al vetriolo, ma il mio viso oramai aveva ceduto la sua forma. 12. Quando viene a visitarmi, mio marito ancora trasale perché gli sembra di guardare se stesso. 13. Commento. La mandante e l'attentatore sono solo gli strumenti della forma di vita della loro vittima. 14. Essi tuttavia subiranno l'effetto del loro gesto. Ma se la mandante e l'attentatore decidevano di non essere tali, chi doveva perdere la vista l'avrebbe comunque persa. Magari in un incidente d'auto. 15. La mandante e l'attentatore sono solo gli strumenti della loro vittima.